Ciao, buonasera, bentrovati al terzo appuntamento in diretta streaming da parte di Supsi e mia ad un appuntamento che vede protagonisti i futuri studenti, le future studentesse, sì proprio voi che in questo momento ci state ascoltando perché la tua formazione sarà la tua professione e in questi giorni grazie a giovani professionisti che si sono inseriti da poco nel mondo del lavoro, beh riusciremo a farci tutti noi un'idea un po' più concreta di quello che sono i percorsi formativi. Potete partecipare anche voi, proprio così, se avete delle domande da porre, beh basta comporre il numero Whatsapp che vi dico subito che è lo 079-260-0748. Non sarò da solo perché con me, come ieri e l'altro ieri, ho il piacere di avere Emma Jane Miolato. Come stai? Bene, bene, tutto bene? Bene, tutto a posto. Bene. Terza giornata? Sì, tutto, ormai sono del mestiere. Ormai consolidata, eh, del mestiere. No ma ti vedo veramente a tuo agio e poi sai questa sera parleremo anche del tuo corso, sì, sì. Lo ricordiamo, lo ricordi tu? Sì, 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 del Bachelor in Ledger Management, quindi ci vediamo più tardi. Assolutamente sì. Allora, con Emma ci vediamo dopo. Per quanto riguarda noi, beh, entriamo nel vivo presentandovi le professioni di questa sera. Professioni cui percorsi formativi rientrano nel Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Socialità della SUPSI e più precisamente riguardano gli ambiti lavoro sociale ed economia aziendale. Questa sera facciamo una cosa un po' diversa, nel senso che suddivideremo il nostro incontro in due parti. Nella prima parte della serata vedremo i percorsi formativi per diventare educatrice, educatore sociale e assistente sociale, mentre nella seconda parte vedremo insieme i percorsi formativi per diventare economista aziendale e manager del tempo libero. Partiamo dunque con l'ambito di lavoro sociale. Diamo il benvenuto all'educatrice sociale Lisa Maciocci. Ciao, benvenuta. Ciao. E all'assistente sociale Melissa Fabri. Benvenuta anche a te. Grazie, buonasera a tutti. Direi di rompere subito il ghiaccio e vi faccio presentare. Partiamo con te, Lisa. Ok, io sono Lisa Maciocci, ho frequentato la SUPSI, bachelor in lavoro sociale, con formazione come educatrice. Ho lavorato due anni e mezzo in un centro educativo per minori e attualmente lavoro al 50% come assistente alla didattica alla SUPSI e seguo i giovani che stanno svolgendo la formazione che io in passato ho fatto. Quindi il tuo cammino sta proseguendo sempre in SUPSI anche, parallelamente. Adesso avremo modo di conoscere meglio il tuo percorso. Melissa? Sì, io anch'io ho frequentato la SUPSI. In realtà ho terminato recentemente nel settembre del 2020. Attualmente lavoro come curatrice all'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione nella sede di Locarno. Senti, quanto, chiedo subito a te, nella scelta del tuo percorso formativo, è servito l'aiuto di una persona magari più grande che aveva seguito o svolto gli studi che poi hai intrapreso tu? Ma sicuramente è servito nella misura in cui ti dà la possibilità di aprirti un po', come quello che è l'obiettivo di stasera, l'immaginario di come potrebbe essere la tua formazione e di, appunto, cominciare a proiettarti e immaginarti all'interno di quel percorso scolastico, di com'è strutturato, nella particolarità poi della SUPSI, che offre nel nostro settore la possibilità di effettuare sia la parte pratica che la parte teorica. Per te, Elisa, anche così è servito il consiglio di qualcuno per poi intraprendere i tuoi studi? Assolutamente sì, è stato quasi fondamentale perché sì, ci sono state delle persone, in particolare due, molto di ispirazione, di stimolo e, come giustamente dice Melissa, mi hanno permesso un po' di immaginarmi in questa formazione e basarmi su delle informazioni concrete per costruire poi il mio progetto di formazione. Allora, se siete d'accordo, aiutatemi a far conoscere meglio le vostre professioni. Partiamo con te, Elisa. Cos'è l'educatrice sociale? Ma in realtà sì, quando ho letto le tue domande, questa per assurdo, per assurdo forse no, però a volte penso che le domande più semplici sono quelle che ci mettono in difficoltà. Beh, l'educatore sociale sicuramente è una persona professionista che accompagna altre persone in, come dire, in fasi forse della vita, con un'ottica progettuale, con degli obiettivi, in funzione poi di permettere alla persona che in quel momento ha questo bisogno di essere accompagnato, poi possa essere autonoma. Melissa, invece, per quanto riguarda la professione di assistente sociale? Anche qui è difficile dare una risposta esatta perché comunque dipende molto dal settore e dal servizio in cui operi. Comunque, a livello generale, l'assistente sociale è un po' la figura di riferimento all'interno di una progettualità che poi è condivisa e definita con la persona stessa e con una rete di professionisti e anche una rete informale di amici e familiari che fanno parte della vita di queste persone. A questo punto mi viene da chiedervi in cosa si differenziano queste due discipline. Insomma, aiutatemi a capire e a spiegare, perché penso che sia un aspetto interessante. Sono abbastanza complementari e vanno anche un po' di pari passo, in maniere differenti. Ovviamente forse c'è un accompagnamento più quotidiano e giornaliero nel lavoro dell'educatore e un po' meno quotidiano e giornaliero nel lavoro dell'assistente sociale che è più da dietro le quinte, muove tutto quello che sono le risorse sul territorio della persona, le attiva e collabora appunto tantissimo con i professionisti che seguono le persone più nel quotidiano. Cos'è che vi ha spinto ad intraprendere questi studi? Lisa, partiamo da te. Ma io immaginando una Lisa comunque di dieci anni fa, un po' ingenuamente direi, quello che mi ha affascinato di questa professione è sicuramente l'aspetto della relazione e dell'essere a contatto con l'altro. Certo, poi col tempo, con la professione, con le competenze che acquisisci, con tutte le teorie, ovviamente poi questa idea iniziale poi prende un po' più forma. Però il primo stimolo è stato quello. Sì, assolutamente. E invece per te, Melissa? Ma mi trovo abbastanza d'accordo con Lisa e se posso aggiungere una certa curiosità e voglia di conoscere i racconti e i vissuti di altre persone e poter in qualche modo mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per aiutarle appunto. Come si diventa educatrici sociali? Ma non c'è una via, ovviamente. Beh, oggi siamo qui per la SUPSI, quindi mi sento di parlare della formazione che è la SUPSI. Io ricordo, qui cerchiamo di raccontare le vostre esperienze, al di là di tutto. Prego. Come si diventa educatori? Allora, beh, a livello pratico ci sono appunto uno stage preformativo, c'è un esame d'ammissione, un esame sia scritto che orale, ad esempio, e poi sicuramente una cosa importante è il mettersi in gioco, mi verrebbe da dire. Melissa, per quanto riguarda invece gli studi che hai intrapreso tu? Appunto, avendo frequentato entrambe la SUPSI, il percorso è più o meno lo stesso. C'è appunto, è richiesto molto di mettersi in prima persona, di autoosservarsi e di mettersi molto già nel contesto scolastico in relazione con le altre persone. Ecco, mi viene subito da chiedervi quali sono, dal vostro punto di vista, le attitudini che bisogna avere, secondo voi, per affrontare questi tipi di studi e per fare bene poi dopo nella professione. Sì, ma magari mi riallaccio a quello che ha appena detto Melissa, sicuramente una pratica riflessiva, una capacità d'osservazione, sia per quello che è esterno, il contesto in cui si è, ma anche quello che è interno a noi. E' appunto una progettualità, come dicevamo prima, condivisa, costruita. Una certa flessibilità, anche una capacità di adattamento alle diverse situazioni e a far fronte a quello che può essere l'urgenza e quindi anche un confronto costante con anche i colleghi che ti permettono un pochettino di avere uno scambio dei punti di vista differenti. Quanto è stata importante per voi la pratica durante proprio gli studi, Elisa? E' stata fondamentale, importantissima, ma soprattutto quello che trovo che è stato molto interessante è la possibilità di rielaborare la pratica con i docenti durante la formazione, con i propri compagni, quindi confrontarsi anche nelle difficoltà e poi, vabbè, conoscere altri, conoscere professionisti sul territorio sicuramente, vabbè, la relazione con l'utenza, con le persone che incontriamo negli stage. Insomma, sei stata, penso di capire, fondamentale. Ma certo, assolutamente. La stessa cosa è anche il farsi conoscere nelle strutture che ti permette poi in futuro, per chi vuole svolgere questa professione, effettivamente di trovare poi un lavoro. Penso che questo sia un aspetto veramente importante e non scontato, nel senso che inizi a tessere quello che è la tua professione futura mentre studi. Quindi anche qui, magari, l'accortezza dell'allievo o dell'allieva di invastire le relazioni, ecco, magari consigliate, non di rimanere passivi. Cioè, bisogna già iniziare a guardare avanti. Ma certo, assolutamente. Ci sono anche nel percorso scolastico degli incontri con dei docenti che ti chiedono in che ambito, in che settore e in che servizio ti immagini. Forse lì è importante spingere e proprio per l'indirizzo che ci immaginiamo, che la nostra strada vuole prendere. Così che, appunto, creiamo già dei contatti sul territorio, ci facciamo conoscere, facciamo vedere che tipo di persone siamo e che professionisti possiamo diventare. Oggi, appunto, siete dei professionisti, delle professioniste. Continuiamo con te, Melissa. Com'è la tua giornata? Di cosa ti occupi? Frenetica. Frenetica? Allora, io nel quotidiano faccio la curatrice, appunto, e lavoro con persone di diverse fasce d'età, dagli zero ai cento più anni. Tratto quello che è, non so, il sostegno alla gestione finanziaria e amministrativa delle persone, verso, appunto, un'autonomia, affiancamento a dei giovani adulti che sono un po' incerti sul loro futuro professionale, quindi una sorta di orientamento scolastico professionale. Posso chiederti, ecco, che magari, quando è che entra in gioco l'assistente sociale? Perché forse qui è importante, no? A questo punto spiegarlo. Allora, dipende, appunto, la risposta è sempre quella, dal servizio in cui si opera e dal tipo di bisogno richiesta che ha la persona. Ci sono tanti assistenti sociali che lavorano nel comune. All'interno del mio servizio, in generale, ci deve essere già di base una difficoltà nel vivere il proprio quotidiano, sia a livello di nucleo familiare che personale. E per i curatori c'è proprio un'autorità che si chiama Autorità regionale di protezione, che dà il mandato al curatore sulla base, appunto, di richieste e bisogni specifici. Lisa, invece, la tua giornata tipo, di cosa ti occupi nel tuo quotidiano? Ad oggi come assistente. Ad oggi, sì. O come assistente, in parte, anche insegni, giusto? Sì, allora, sì, è un po' complesso. In realtà, penso di fare, farò più un discorso generale, cambia molto quello che fa un educatore a livello quotidiano in base al luogo in cui lavora, come dice Melissa, al mandato istituzionale. Quindi, ad esempio, se si è in un contesto di protezione, per esempio, cambia anche l'età, la fascia d'età con cui, delle persone di cui ti occupi, e quindi è molto vario. Fai delle attività, beh, insomma, fai relazione. Il discorso della relazione torna, no? Melissa, so che tra le cose che ami del tuo lavoro è che ogni situazione è differente. Questo è bello, ma chiaramente può anche creare dei dubbi, no? Ecco, ti dico questo perché mi piacerebbe chiederti quanto è importante anche il supporto nel tuo quotidiano dei colleghi. È importantissimo, è fondamentale, appunto. Offre dei punti di vista differenti, ti permette, in quelle situazioni in cui ti senti molto coinvolto, di poterti confrontare ed ecco, appunto, di avere uno scambio con i tuoi colleghi che, appunto, ti permette di essere più sereno nell'affrontare poi la situazione. Lisa, vale per te anche questo? Assolutamente fondamentale, tanto che agli educatori è anche data la possibilità spesso di fare supervisione d'equip e quindi proprio di creare uno spazio che non è la riunione in cui magari decidi delle cose operative, ma uno spazio proprio per rielaborare tutte quelle esperienze, anche più a livello emotivo. Sì, assolutamente fondamentale. Vediamo se sono arrivate delle domande per voi. Ecco, Emma, raggiungici pure. Allora, abbiamo un paio di domande. La prima è se avete mai fatto delle esperienze di volontariato? Sì. Tutte e due. Chi inizia? Vai, Lisa. Vai, vai, vai. Io sì, assolutamente sì. Sì, ho fatto cinque anni una colonia della comunità, dell'associazione comunità familiare, colonia CHAP, e è una colonia per adolescenti. E sì, ecco, lì ho conosciuto queste persone che poi mi hanno parlato della formazione, mi hanno fatto un po' appassionare. e è sicuramente stato anche un contesto in cui, un po' una palestra, in cui mettermi un po' in gioco e alla prova. Melissa? Io ho fatto del volontariato tramite la SUPSI in una specie di progetto, senza una specie di progetto, chiamato Peer Education, dove c'è la possibilità di trasmettere appunto su determinate tematiche dei valori, delle competenze, degli scambi di divisioni con dei ragazzi, un pelino più piccoli di me, ma dove comunque ciò che è importante è che il messaggio che passa è che non c'è un divario così grande di differenza di età e quindi il messaggio passa molto più facilmente rispetto a quella tematica. C'è ancora una domanda? Passo alla seconda domanda. Come riuscite a non farvi coinvolgere emotivamente dalle situazioni dei vostri utenti? È difficile. Vai. È difficile. Sicuramente con la pratica, l'esperienza e il tempo. La SUPSI in questo ti aiuta molto perché ti prepara questo. Non c'è in realtà una ricetta affinché questo possa avvenire bene. Sicuramente scaricare le tensioni coi colleghi, effettuare delle supervisioni, delle intervisioni, ti permette di staccare e poi bisogna cercare un equilibrio personale. Sì, condivido l'equilibrio personale sicuramente anche perché poi chiaramente veniamo toccati da cose differenti in base alla nostra storia e magari saper anche riconoscere quando c'è l'insorgere di questa cosa, sapersi dire ok, forse ho bisogno di aiuto, di sostegno dai miei colleghi, dalla supervisione, dalla direzione. Insomma, sì, forse la cosa... Certo, siamo umani che hanno a che fare con umani. Quindi è impossibile dire ah no, c'è un trucco per... La cosa importante è sicuramente la consapevolezza, un po' il sapersi leggere forse. Sì, e anche coltivare degli interessi e degli hobby al di fuori della tua professione che ti permettono di scaricare le tensioni e di appunto staccare la testa. Benissimo, grazie. Ci vediamo dopo con Emma naturalmente e ricordo se volete, se desiderate, porre delle domande alle nostre ospiti, Whatsapp, il numero è 079-260-0748. Lise e Melissa, allora, sono importantissime le nozioni, chi studia la tecnica, chi studia... Però nella vita anche le cosiddette competenze trasversali sono a volte e immagino anche nel vostro ambito ancora più importanti. Su questo aspetto cosa ne pensate? Competenze trasversali... Al di là del tuo, delle nozioni come educatrice sociale, come assistente sociale, quanto sono importanti quelle soft skills, vengono definite, che ti aprono, se vuoi, l'ottica e ti fanno adattare alla situazione magari in maniera diversa e magari... quindi immagino che nel vostro ambito questo aspetto sia importante. Non so, desidero un vostro parere. Lisa? Allora, sicuramente una skill importante è proprio saper gestire tutte queste competenze trasversali... cioè, non sempre una cosa che può sembrare positiva in un certo contesto, in una certa situazione, lo è. Quindi forse la cosa più importante, sì, sicuramente avere delle competenze trasversali ci aiuta però ecco, saperle soprattutto utilizzare nel momento giusto e nel modo giusto, penso che sia la cosa più importante. Per te, Melissa? Sì, io mi accodo a quello che dice Lisa e appunto sono delle attitudini un po' personali che vanno sviluppate. Bisogna capire quali sono e attivarle per poterle poi declinare nel nostro lavoro. Sentite, la pandemia in che modo sta influenzando anche nel vostro quotidiano il vostro lavoro? Voi avete a che fare quotidianamente con le persone. Certo. Devo dire che, come per tutti gli ambiti della vita, ha chiaramente messo dei paletti, sia a livello di incontro con la persona e soprattutto anche i dispositivi che ci viene richiesto di utilizzare giustamente per arginare la pandemia, sono un po' un ostacolo. Mi viene in mente la mascherina, quando facciamo dei colloqui con delle persone, ad oggi c'è questa mascherina che non ti dà la possibilità di vedere l'altro e l'altro di poter vedere te. E si è appunto mascherati. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, io penso dipende anche un po' dal contesto, nel senso che c'è chi magari con l'arrivo del Covid ha dovuto aumentare massicciamente il proprio operato e magari contesti in cui, al contrario, si sono dovuti fermare. Quindi penso che entrambe le situazioni non siano state semplici da gestire. Le nuove tecnologie della comunicazione, adesso mi riferisco a Teams, Skype, le usate per entrare in contatto con i pazienti? Allora, più che con le persone, con la rete, per quanto riguarda la mia professione, perché appunto se da una parte il Covid ha messo questa distanza, i mezzi di tecnologia hanno permesso di facilitare questi incontri, queste riunioni. E mi viene da dire anche di migliorare i tempi, perché è vero che se mi devo spostare dalla sede di Locarno a Mendrisio per un appuntamento, è vero che farlo attraverso Teams è molto più veloce. Parliamo di post formazione. Ecco, quali sono le possibilità per continuare a crescere dal punto di vista di formazione e di professione? Elisa? Sì, beh, essendo la formazione che io e Melissa abbiamo svolto un bachelor, sicuramente ci sono dei master per specializzarsi in qualcosa di più particolare, o ci sono delle formazioni continue che la SUPSI tra l'altro offre, di vario tipo direi. Sì, appunto magari nel mio ambito qualcosa sulla mediazione familiare, sul counseling, tutti dei settori di specializzazione a quello che è già una base molto buona che offre la SUPSI. Allora, abbiamo detto si fa tanta pratica in SUPSI, lo sappiamo, ma vi ricordate la prima volta che siete uscite e avete avuto a che fare insomma con le persone che cercavano il vostro aiuto? Ecco, come avete vissuto questa prima volta fuori nel vostro lavoro? Come professionista intendi? Come professionista, sì. Traumatico. Traumatico. Io direi traumatico. Trauma, sì. Raccontateci un po'. Mi vuole parlare. Traumatico perché comunque è vero che fai della pratica attraverso gli stage, però sei sempre tutelato perché sei lo stagiera, il tuo referente a cui rivolgerti, dopo sei tu il referente, sei tu la persona, sei tu chiamato a rispondere ai bisogni e non si è mai pronti completamente a questa cosa, la si impara e si annaspa quotidianamente. Sì, è vero. Lì probabilmente il lavoro di equip è fondamentale, avere un'equip accogliente che ti possa essere di sostegno. Però sì, la responsabilità è tanta ed è una responsabilità comunque non da poco, quindi è un po' di ansia, ti viene. Ma forse è anche normale che sia così, no? Però poi a volte può anche essere il motore per partire, provare te. Il ricordo più bello della vostra formazione? Gli aperitivi! Gli aperitivi. Ma è sicuramente il clima però. Com'è il clima? Adesso abbiamo parlato di studio, di curriculum, di... Ecco, la vita universitaria si vive anche giustamente, adesso è un po' più difficile in questi periodi. Ma lasciamo, ecco. Che ricordi avete? Dai, raccontatemi come avete vissuto il periodo universitario. Ma io ricordo tante discussioni, tante discussioni a livello di quello che si stava facendo, del senso, di cosa rappresenta per me, molto uno scambio di idee e poi tantissime risate, devo dire, se qualcuno che era in classe come me mi sta guardando saprà cosa intendo. Stiamo dando dei messaggi, Felisa. Sicuramente... Ma raccontatemi qualche aneddoto, dai, tanto siamo solo tra di noi, no? Io ci penso mentre me li spieghi. Bella questa risposta. Ma allora appunto, io ricordo i aperitivi con i compagni e lì non c'è classe terza, prima, seconda, ma si è tutti insieme. Poi abbiamo questa terrazza nello stabile vecchio che avevamo in lavoro sociale e ecco ci si dava un po' la pazzagioia con la collaborazione e poi dello stabile degli insegnanti, della direzione che mettevano a disposizione questi spazi chiedendo un minimo di collaborazione nella polizia dopo. Ci hai pensato nel frattempo? Sì, più che un aneddoto, direi, pensando a Melissa che diceva non c'è differenza tra i ragazzi che hanno cominciato la formazione e quelli che stanno finendo, è vero che poi c'è tutte queste, come dire, ci sono le leggende degli esami che tutti bocciano. Allora tu parti, arrivi quelli di terza, ah benvenuta, hai cominciato la prima o quell'esame lo devi studiare e a te sale un'ansia che dici ok, non ho ancora visto in faccia il professore ma so già che quella materia mi farà sudare. Forse ecco, quelle dinamiche facevano sorridere. Poi comunque era molto meno traumatico di quello che vendevano, mi verrebbe da dire. C'era collaborazione tra di voi studenti? Ma certo, 4-5 domande che sono più o meno sempre le stesse, corrispondi così, cos'ha? Sì, assolutamente. Allora, quando avete iniziato immagino che avevate degli obiettivi, dei sogni. Ecco, questi sogni li state realizzando oggi nella vostra professione, Lisa? Ma personalmente sono nella direzione giusta per farli avverare, sicuramente ci vuole tempo, bisogna avere pazienza e sì, però pian piano io penso che se ci credi e se ti muovi, cioè se ti attivi nel poi poterlo raggiungere, è fattibile. Lo raggiungi, Melissa? Ma io direi che il primo obiettivo era ottenere il bachelor, diciamocelo, lo depenniamo e va bene. Il secondo era lavorare all'interno di un servizio che mi interessa particolarmente, lo sto facendo, quindi depenniamo anche quello e il resto si vede, dai due sono già tanti. Allora, siamo quasi in conclusione, ma vediamo se la nostra Emma ha qualche domanda ancora per voi. Sì, allora, un paio di domande. Allora, all'interno del bachelor in lavoro sociale, quando viene effettuata la scelta dell'indirizzo educatore assistente? Allora, la formazione adesso sta cambiando. Penso che negli nostri anni era il terzo anno. Sì, nel secondo cominciavi già, ti chiedevano già se eri più orientato verso uno o verso l'altro, cominciavano a chiederti di fare una scelta e poi, effettivamente, al terzo anno ci dividevamo educatori e assistenti sociali. Ok, passo alla seconda domanda, allora. Chiedono se ci sono delle buone prospettive occupazionali nel campo del lavoro sociale e se avete trovato subito del lavoro. Sì, io se posso, appunto, ripeto, ho ottenuto il bachelor in settembre 2020, siamo in marzo 2021, quindi sì, ho sempre lavorato. Quindi ci sono delle buone, buonissime occasioni di lavoro. C'è anche un ricambio generazionale attualmente di persone che stanno andando, fortunatamente per loro, verso la pensione e che lasciano un po' di spazio ai giovani. Sì, assolutamente, c'è un buon movimento, anche perché capita anche che le persone non facciano carriere di 20-30 anni, non parlo di tutti, assolutamente, però c'è un buon movimento, ecco, in quel senso. Forse ci sono dei momenti dell'anno in cui, tipo settembre, non so, io poi parlo della mia esperienza in realtà, però sì, c'è un buon... Basta forse non essere troppo focalizzati su un contesto, un tipo di... Sì, essere un po' flessibili, come diceva Melissa prima. È tutto, Emma? Bene, bene. Grazie a Emma, con Emma ci rivediamo fra un attimo, più tardi. Intanto siamo veramente in conclusione, ma rivolgiamo magari da parte vostra un augurio alle studentesse, agli studenti che in questo momento vi stanno seguendo e che hanno magari il desiderio di percorrere la stessa formazione che avete fatto voi. Lisa? Ma un augurio, ma a me verrebbe da dire, nulla è irreversibile, quindi, ecco, a volte ci sembra di dover scegliere la formazione, si può anche poi ripensarci, cambiare, quindi, però, beh, se hai una buona, non so, se hai una buona motivazione, una buona, una spinta un po' passionale, può funzionare. Può funzionare. Melissa? Sì, scegliere molto col cuore e mettetevi in gioco, ragazzi, è una bella formazione. Guardate, siamo in diretta, ma abbiamo ancora una domanda per voi che ci arriva dal pubblico, e mi sembra giusto. Certamente, prego. Vieni pure. Eccomi. Allora, chiedono se per vivere un'esperienza estiva simile a quella raccontata da te, Elisa, per appunto approcciarsi alla professione, a chi bisogna rivolgersi e dove si possono trovare delle informazioni? Ok, allora, nel nostro territorio, beh, farei una precisazione, io ho svolto questo volontariato nell'ambito delle colonie integrate, e comunque in Ticino ti direi che le due grandi associazioni che si occupano del tempo libero, in questo senso qui, sono l'associazione Comunità Familiare e AdGabes, sui loro siti si trova tutto, e se si chiama negli uffici, comunque ci sono persone accoglienti disponibili che sicuramente spiegano tutte le possibilità. Grazie mille. Eppure qua, che chiudiamo a questo punto. Grazie Elisa, grazie Melissa per aver portato la vostra testimonianza e il vostro contributo. Se desiderate approfondire le possibilità di formazione SUPSI, naturalmente potete prenotare la vostra consulenza di orientamento scrivendo a orientamento-supsi.ca, oppure telefonare allo 058-666-6024. Adesso una brevissima pausa e poi noi torniamo con Economia Aziendale e Manager del Tempo Libero. A più tardi, ciao, grazie.